è forte come un orso è veloce come un cavallo è un killer è una macchina da gol classe 2000 1 e 94 distanza haaland quasi fatta la juve signori miei buongiorno signori miei buongiorno vigilia di natale stupenda affascinante detto questo detto questo io voglio capire subito una cosa ma la voglio capire adesso ora immediatamente per questo rosciandolo sto leggermente rosicando leggermente si scherza e si scherza si scherza però però fatemi davvero capire una cosa perché magari voi avete la risposta alla mia domanda e io ci penso ci ripenso ci rifletto ci rifletto ci rifletto ma non ne vengo a capo io voglio capire una cosa all'interno all'interno sono sempre settimane settimane depo culusevski vidal giru depo culusevski vidal giru tutto 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 all'infinito all'infinito e una volta ti dicono vidal ci siamo una volta di connova guarda che forse poi ti dicono ma sì ma no ma sì ma ok qui qui quando si tratta della juve ti svegli di punto in bianco la mattina ti svegli la mattina che può essere anche la vigilia di natale quasi fatta olè quasi fatta olè ma come cazzo funziona dai ma com'è possibile com'è possibile onore a loro eh onore a loro che non fanno trapelare davvero nulla ti trovi già tutto fatto invece noi dobbiamo stare lì eh perché poi è anche è anche anche ovvio che una trattativa così importante per un giovane così prestigioso non è che la concludi dall'oggi al domani quindi è una trattativa comunque avviata comunque che che richiede del tempo però lo sai all'ultimo hai capito sta cosa mi 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 provoca mi provoca rabbia no provoca rabbia attenzione no cioè complimenti a loro che ci riescono ma mannaccia la miseria ti trovi tutto fatto poi attenzione andiamoci comunque cauti perché la fonte è il Corriere dello Sport abbinata a tutto sport ecco il Corriere dello Sport magari chi ne sa è andato a scrivere lui l'articolino non lo puoi sapere però pare veramente quasi fatto poi lo riportano un po' ovunque e niente parliamo di un bel giocatorino come ho detto prima classe 2000 questo è uno che sono andato a vedere ha fatto già 8 gol in Champions ma sbaglio o non sbaglio? 8 gol in Champions ma 8 gol in Champions nel girone di Napoli e Liverpool cioè non è un giocatorino proprio ultimo arrivato è un classe 2000 giovanissimo sì però che già dalla sua ha presenze gol importanti e niente è grosso no più che grosso è alto è una stazza infinita segna segna poi giustamente richiede un giocatore che qualora si prendesse è un prospetto come si ragiona su The Elite non è un giocatore che puoi valutare in un anno devi valutare un percorso devi dargli tempo ma tu lo prendi a 30 milioni perché si parla di 30 milioni questo è il discorso si parla di 30 milioni già questo ha un valore di mercato pari a 45 ma grazie a Mino Raiola perché poi c'è sempre di mezzo lui sempre volente o nolente sempre lui pare che con una clausola attivabile riescano a prenderla a gennaio gennaio a 30 milioni e cazzarola cazzarola se riesco cazzarola poi c'è una concorrenza spietata c'era il Manchester c'era l'Ipsia anche qualche altra squadra quindi cazzo se riesco io non lo so io non lo so io non lo so non lo so non lo so poi c'è anche da dire che è ovvio che con questo acquisto non risolve la Juventus non andrebbe a risolvere i problemi che ha ma questo è un altro investimento molto importante che secondo me darà i suoi frutti assolutamente però è ovvio che la Juventus non deve fermarsi ad Alanda deve prendere un centrocampista questo è un discorso pare chiaro ma qua già si parla anche di di Paredes uno scambio con Can vedremo steremo aggiornati e niente in uscita sembrava tutto fatto per Mario Manzio che ci invece pare che non abbia trovato l'accordo con l'Alduailo come cavolo si chiamano l'altra squadra quindi attenzione vanno visto un paio di cose però se valutiamo tralasciando tutti gli altri aspetti se valutiamo quest'affare se la Juventus porta a casa quello che se non sbaglio è il vice capo cannoniere d'Europa ad oggi che ha solo 19 anni a 30 milioni se lo porta a casa ti applaudi come al solito stai lì a bocca aperta che aspetti che ti voglio dire che non c'è non c'è altro da aggiungere se riesci comunque vediamo 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 un po' la vigilia di Natale fa di stare sereno almeno la vigilia di Natale almeno la vigilia di Natale non lo so vabbè ci aggiorniamo signori miei un abbraccione grande halad halad forte come un orso veloce come un cavallo